Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Oggi è mercoledì e dunque l'invito è quello di passare in edicola per prendere non solo la verità ma anche panorama. Vedremo tra poco le aperture dei quotidiani che abbiamo selezionato per voi, devo però darvi conto delle novità di questa notte, come dire, la cui portata sarà meglio capita nelle prossime ore. C'è stata una prima rappresaglia iraniana con l'invio pare di 12 missili balistici contro due basi in Iraq e vedremo tra poco quello che siamo riusciti a ricostruire. Il fronte iraniano, la propaganda iraniana parla di molte decine di vittime, sul versante americano però le cose non risultano in questi termini. C'è un tweet di Donald Trump che sembra per il momento rassicurante, c'è anche l'aggiornamento online del Wall Street Journal che dice che per il momento non vi sarebbero vittime americane, potrebbero esservi vittime irachene, ma fonti americane dicono che è ancora presto. L'unico giornale che fa in tempo a dare qualche notizia, ma naturalmente si tratta ancora di una notizia frammentaria essendo le cose avvenute questa notte, l'unico giornale è quello che chiude più tardi di tutti il Corriere della Sera, ma noi vi daremo qualche aggiornamento online come detto. Prima di tutto però le aperture. La verità, ci sono tre foto, Gentiloni, Conte, Di Maio, protagonisti di interviste, diciamolo pure, retoriche vuote, quelle che vi abbiamo raccontato nella rassegna di ieri. Il titolo della verità è I volponi del deserto, governanti per caso. Dopo lo smacco subito da Conte in Europa scendono in campo Di Maio e Gentiloni, non sanno che pesci prendere in Libia, ma hanno un'idea meravigliosa in testa. Comunque è tutta colpa di Salvini, è questo l'incredibile contenuto dell'intervista di ieri al fatto di Luigi Di Maio, quella in cui parlava un po' come Miss Italia, ci vuole la pace, chi è il cattivo è Salvini. Su tutto questo vedremo il commento di Maurizio Belpietro e l'offerta informativa della verità. Corriere della Sera, vi dicevamo, fa in tempo a mettere nel titolo d'apertura la notizia della notte, missili sulle basi americane, ma noi vi racconteremo qualcosa in più. Il Fatto Quotidiano cambia tema, parla di autostrade e dei rischi che tuttora vi sono, non rispetto a ciò che è già accaduto a Ponte Morandi o crolli qua e là come nella galleria Amazone sulla 26, ma di quello che potrebbe accadere, la mappa dei pericoli SOS autostrade, tutte le trappole dal Piemonte alla Liguria, da Lucca a Napoli. Spostiamoci ancora avanti, il giornale che cambia ancora tema perché le sardine dicono non siamo un partito però intanto fanno un congresso. Pronto il partito, sardine in scatola, ma che mare aperto, vanno a congresso e a caccia di poltrone. E poi ancora il tempo, scansonato, che dice qua non ci mandano a votare, resta solo Sanremo, c'è rimasto giusto il televoto, tocca accontentarsi di Sanremo. E poi ancora Repubblica, salvate il soldato Paolo, i 150 militari italiani, chi è Paolo direte voi, eccolo qua, guidati dall'incursore Paolo Fortezza, restano in Iraq ma lasciano Bagdad per motivi di sicurezza. E infine la stampa che ci riporta a uno dei temi da quali partiremo, cioè il versante libico della crisi con il clamoroso insuccesso non solo dell'iniziativa di Di Maio ma pure dell'iniziativa dell'Unione Europea, la stampa chiama, va detto le cose con il loro nome e dice Flop UE in Libia, battaglia a Sirte perché invece a Sirte si combatte, c'è l'avanzata delle truppe di Haftar. Vedremo però, anticipiamo un altro tema che mentre a chi vi parla, più autorevolmente di noi, ai pezzi della verità, ai pezzi della stampa, ai pezzi del giornale, appare chiaro l'insuccesso di qualunque iniziativa europea, l'impotenza di Bruxelles, di Parigi, di Berlino e naturalmente di Roma rispetto alla crisi libica, c'è chi, Corriere della Sera e Messaggero, tenta di raccontare una storia diversa, anche con qualche effetto involontariamente comico. Ma non portiamoci troppo avanti col lavoro, ricominciamo da dove siamo partiti e dall'editoriale di Maurizio Belpietro. Secondo voi di chi è la colpa se in Libia si scannano e rischiamo di avere la guerra alle porte di casa? Matti Matteo Salvini, naturalmente, l'ex ministro dell'interno, quando stava al Viminale, cioè cinque mesi fa, virgolette, avocò totalmente a sé il dossier libico, puntando solo sull'immigrazione per farne un tema da campagna elettorale, una scelta del tutto sbagliata. E qui si chiudono le virgolette, Pietro ci fa capire che è una citazione che voi avrete già riconosciuto. Le perle virgolettate sono tratte da un'intervista concessa ieri dal ministro degli esteri di Maio al Fatto Quotidiano. E ancora prosegue Belpietro. Che il ministro degli esteri, fino a cinque mesi fa, fosse un tizio voluto da Sergio Mattarella, cioè uno votato alla diplomazia del silenzio, stiamo parlando di Enzo Moavero Milanesi, non conta, né conta il fatto che il ministro della difesa fosse Elisabetta Trenta, ossia una signora più esperta nel difendere la casa affidata alle dalle esercito che quella comune degli italiani. Che da settembre a oggi alla Farnesina ci sia Di Maio, cioè uno impegnato sul fronte della guerra interna al Movimento 5 Stelle più che su quello libico, è un dettaglio, così l'ironia sversante ma a me pare motivatissima di Maurizio Belpietro sul tentativo di Di Maio e di altri ieri di buttare la palla in calcio d'angolo, l'offerta informativa della verità. Intanto Stefano Graziosi sui militari italiani in Iraq che fanno, restano ma con dei riposizionamenti. Gabriele Carrer sull'impressionante funerale di Soleimani e con un bilancio delle vittime del funerale che cresce, 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 ieri sera era arrivato oltre 70 e c'è da immaginare arriverà a 100 morti. La cosa è francamente paradossale, si criminalizzano gli americani per un blitz in cui sono stati uccise quattro persone, Soleimani e tre uomini di scorta, poi però al relativo funerale moriranno un centinaio di persone. Ridiamo ma naturalmente non c'è niente da ridere, questo è l'effetto di un regime teocratico, islamista, direi nazi islamista, questa è l'espressione che può essere usata, che però qualcuno ancora oggi incredibilmente difende. Vedrete quando poi arriverà, sta arrivando, è in volo, Dibba in Iran, vedrete che corrispondenze, vedremo se per il fatto quotidiano o per chi altri. E poi sulla verità c'è un pezzo di chi vi parla proprio sul tentativo di Di Maio di imbastire un tour, prima a Bruxelles, ieri, poi ancora ieri in Turchia, poi oggi tra Egitto, Tunisia e Algeria per cercare di darsi un ruolo, per costruire un fantomatico gruppo di contatto, ma francamente non si capisce che ruolo mai possa giocare Di Maio, anche perché, e questo è l'altro aspetto che i pezzi della verità evidenziano, oggi è un giorno chiave a Istanbul, dove si incontrano Erdogan e Putin e qualunque cosa si possa pensare dell'uno o dell'altro, secondo voi Erdogan e Putin, per mettersi d'accordo o no, hanno bisogno della mediazione di Di Maio? È evidente che no, è molto probabile che oggi ci sia o un netto dissenso fra i due che lascerà spazio solo alla soluzione militare, oppure un assenso spartitorio che lascerà le briciole agli altri e gli altri che faranno si agiteranno freneticamente, come fa Di Maio e come fa anche lo spagnolo Borrell, alto rappresentante di un'Unione Europea inesistente e inconsistente, dicevo si agiteranno freneticamente per coprire la loro evanescenza. Dicevamo dell'attacco però di questa notte, dicevamo che il Corriere della Sera è l'unico che riesce a metterlo nel titolo, missili sulle basi americane, poi c'è pagina 6, attacco ai soldati americani in Iraq. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più da questo punto di vista e cioè siamo andati a vedere l'edizione online del Wall Street Journal che è sostanzialmente la cosa più aggiornata che sia in questo momento in circolazione. In quella edizione online, andiamola rapidamente a recuperare in diretta, eccola qua, si dice che l'Iran ha sparato missili alle forze americane in Iraq. Più di una dozzina di missili hanno avuto come target due basi dove stazionano truppe americane. Teheran dice che l'attacco è una vendetta per l'uccisione del generale iraniano Soleimani e questo lo sappiamo. Andiamo a vedere cosa racconta il Wall Street Journal sugli effetti. An administration official, quindi un ufficiale dell'amministrazione americana, dice che non ci sarebbero vittime americane in entrambi gli attacchi, ma aggiunge che è presto e ancora aggiunge che l'esame dei danni e delle caratteristiche dei missili è ancora in corso. Invece lo stesso ufficiale dice che è probabile che ci siano alcune vittime irachene, anche se il numero appare essere basso nelle ore successive all'attacco. Questa è l'informazione che dà il Wall Street Journal. Andiamo a vedere che cosa ha twittato Trump due ore fa e dice che tutto bene, i missili lanciati dall'Iran a due basi militari localizzate in Iraq. La verifica delle vittime dei danni sta avendo luogo adesso e poi so far so good. Per ora tutto bene. Abbiamo la più potente e meglio equipaggiata struttura militare nel mondo. Farò uno statement domani mattina. Quindi è da attendersi che nelle prime ore americane, quindi nel primo pomeriggio italiano, ci sarà un bilancio definitivo e la presa di posizione pubblica del presidente americano. Allora, questo è l'aggiornamento che vi abbiamo potuto fare, non a questo punto dai giornali italiani, ma dal tweet di Trump e dall'edizione online del Wall Street Journal. Torniamo ai giornali italiani e torniamo al Corriere della Sera, che ha oggi una cosa abbastanza interessante e con questo possiamo mettere un punto sulle caratteristiche di Soleimani che qualcuno presenta come una specie di... incredibilmente i giornali italiani sono a lutto per la morte di questo burattinaio del terrore. Per fortuna c'è Lorenzo Cremonesi che va a sentire un politico iracheno che si chiama Mutlak e che restituisce l'immagine più vera di Soleimani, mandante di 12.000 assassini, ci avrebbe trasformati in provincia iraniana. Virgolette, ma voi in Europa sapevate che Qassem Soleimani è stato direttamente coinvolto nel rapimento di oltre 12.000 iracheni? Di loro dal 2015 non si hanno notizie e quasi certamente sono stati brutalmente assassinati dalle sue milizie estremiste sciite. E riprende Lorenzo Cremonesi, nonostante sia il giorno dei giganteschi funerali in Iran, il politico sunnite iracheno Ahmed al-Mutlak non si tira indietro nel puntare il dito contro lo storico comandante delle brigate al-Quds. Domanda ancora Cremonesi, cosa pensa del raid USA? Trump ha fatto bene? E Mutlak risponde in modo per un verso avvertito e consapevole nella prima parte e poi molto sincero nella seconda. Premesso che nell'Islam la morte di ogni individuo va sempre rispettata, tengo a ricordare che Soleimani ha a sua volta provocato la morte violenta di centinaia di migliaia di civili innocenti. È stato l'architetto della repressione in difesa del regime di Bashar Assad in Siria, che dal 2011 ha costato almeno mezzo milione di morti, oltre a 12 milioni tra profughi e sfollati. Orchestrava la guerra in Yemen, era stato tra i massimi fautori dell'apparato militare di Hezbollah in Libano. In Iraq le conseguenze del suo operato sono state gravissime. Così l'operazione verità fatta dal politico iracheno Mutlak. Veniamo alla Unione Europea e alla sua impotenza. L'abbiamo già raccontato come mette le cose la verità. Allora andiamo a vedere il titolo di pagina 2 della verità. Di Maio invastisce un tour all'estero per far credere di essere in partita. Incontro con gli omologhi UE e frasi di rito serve un cessate il fuoco. L'iperattivismo serve a nascondere il fatto che Roma è tagliata fuori. E nel pezzo si spiega come anche Bruxelles sia sostanzialmente impotente. Volete? Per correttezza ve ne diamo conto. Una versione invece diversa. Bruxelles sta facendo qualcosa. Ecco il Corriere della Sera. Pagina 3. Francesca Basso. Il pressing dell'Europa su Erdogan. Il vertice a Bruxelles. Cessate il fuoco e stop alle interferenze turche. Sì perché Erdogan sarà molto preoccupato dal fatto che ieri sera i ministri UE hanno fatto un comunicatino mettendo per favore fate il cessate il fuoco. Va bene. A sostegno della tesi della verità su un piano di realtà si pongono anche il giornale e la stampa e volentieri ne diamo conto. Gian Michalessin sul giornale spartizione Putin-Erdogan. L'Italia fatta fuori dalla Libia. Inutile il vertice con la UE. Questo è il giornale. E sulla medesima linea la stampa che ne fa anche il titolo d'apertura. Abbiamo visto flop UE in Libia e poi a pagina 2. Libia fallisce il vertice dei ministri UE e il pezzo è firmato da Marco Bresolin e Francesca Sforza. Peraltro la cosa abbastanza, ripeto, se non parlassimo di cose gravissime ci sarebbe quasi da divertirsi. Ieri finito nel primo pomeriggio il vertice a Bruxelles, Di Maio è volato in Turchia per vedere il suo omologo ministro degli esteri e in confronto con l'incontro che a Istanbul ci sarà oggi tra Erdogan e Putin sembra un po' quelle prime comunioni di una volta dove c'era il tavolo dei ragazzi, il tavolo dei bambini e poi invece c'è il tavolo degli adulti dove si prendono le decisioni. Non dispiaccia al messaggero, che è un quotidiano rispettabile, sempre pieno di notizie, oggi però l'effetto più comico è proprio quello del messaggero che titola e quando l'abbiamo visto stamattina diceva allora una delle proposte del generale Santo intervistato lunedì dalla Verità è stata finalmente raccolta, pensavo, poi sono andato a leggere e titolo Libia UE pronta al blocco navale e uno dice ah finalmente l'Unione Europea si rende conto che bisogna fare qualcosa e il pezzo è a pagina 3 di Cristiana Mangani che non incolpiamo perché il pezzo è corretto, il problema è la titolazione, ma quale blocco navale? Giudicate voi il passaggio chiave. La riunione di ieri a Bruxelles, sebbene non abbia portata una vera soluzione, ha anche preso in considerazione questa possibilità, quindi non ha portato soluzione, ha preso in considerazione questa possibilità ma ora vedete come la giornalista correttamente racconta le cose, altro che blocco navale. Visto che la soluzione diplomatica sembra impossibile senza un supporto militare e è un FORMED, è un'operazione militare, ora si tratterà di discuterne anche in fretta con buona pace della politica che potrebbe temere con il ripristino della missione una porta più aperta per i trafficanti di esseri umani e per la ripresa dei viaggi verso l'Italia, visto che la presenza di navi europee nel Mediterraneo imporrebbe anche di soccorrere le imbarcazioni in difficoltà. E qui capite bene, altro che blocco navale, qui saremmo all'accompagnamento navale, quindi la giornalista racconta correttamente nell'articolo che non hanno deciso nulla e se decidessero qualcosa sarebbe in senso perfino pericoloso in termini di riapertura del rubinetto e l'immigrazione, curiosamente il titolo di prima parla di blocco navale. Ritornando al Corriere della Sera troviamo l'altra cosa tragicomica della giornata, queste interviste ai commissari europei che non dicono nulla però dicono ieri era stato Paolo Gentiloni su Repubblica, oggi è un altro che parla italiano anche se è olandese, è Franz Timmermans, lo sente Paolo Valentino, tutto un paginone, pagina 3 del Corriere, l'accordo con l'Iran è un successo europeo, si può ancora salvare e andiamo a vedere come la mette il povero Timmermans. Di fronte a un'azione unilaterale degli americani Borrell ha fatto la cosa giusta, a nome di tutta l'UE ha invitato il ministro degli esteri iraniano a Bruxelles per discutere la situazione e rilanciare il dialogo, infatti quelli hanno bombardato stanotte e la settimana scorsa avevano assaltato l'ambasciata americana. Primo compito dell'Europa è convincere le parti a evitare un escalation, eh sì non c'è dubbio, lo scriveva ieri molto bene Paola Tommasi su Libera, hanno imparato due parole escalation e de-escalation, i politici europei le ripetono inutilmente e retoricamente mentre le cose accadono. Ahimè non dà un contributo all'intervista neanche l'intervistatore Paolo Valentino che con i nazisti islamici che imperversano pone a Timmermans la domanda sul rischio fascismo in Europa. Lei è stato criticato in Italia quando con gli altri commissari socialisti a Strasburgo ha cantato bella ciao, ci sono stati episodi di aggressioni violente, da ultimo anche in Italia e a Venezia, c'è un'emergenza neofascista in Europa, ecco questa è l'emergenza per Paolo Valentino, e Timmermans naturalmente quello gli alza la palla e schiaccia, sì, ovunque vedo antisemitismo, razzismo, xenofobia, c'è un'emergenza fascista, anche se non si usano le stesse denominazioni ad accomunarli sono odio e rabbia, il pericolo più grave che vedo è la grande bugia della sostituzione etnica che sarebbe in corso, la leggenda secondo cui stanno prendendo i nostri posti, si cercano colpevoli, si fomentano odio ed esclusione, questa è una bugia pericolosa, è compito della sinistra smascherarla, parlando della paura ma trovando insieme alle persone una soluzione realista senza puntare il dito contro le minoranze. Quanto a bella ciao non capisco come si possa essere criticati per aver dimostrato il nostro rispetto verso i partigiani italiani che hanno combattuto per la libertà, così, credibile Timmerman, ma dove stanno i fascisti, dove stanno, ci saranno quattro sciagurati in giro per l'Europa, ma insomma è francamente ridicolo che con l'islam radicale e fondamentalista che è imperversa, con uno stato canaglia che segrega le donne, lapida e frusta le adulte, uccide gli omosessuali, sostiene il terrorismo in tutto il mondo, Timmermans e Valentino parlino dei fascisti immaginari in Europa. Va bene, chiudiamo anche questa pagina e con questa chiudiamo i primi due terzi della rassegna stampa, inevitabilmente dedicata alle cose internazionali e ai due corni della crisi, Iran, Iraq, Stati Uniti per un verso e Libia per altro verso. Quanto all'Italia, per un verso oggi è il giorno in cui tre quotidiani, lo fanno con servizi tutti e tre interessati, ciascuno con la propria lettura, però l'impostazione è analoga, stanno seguendo la campagna elettorale di Salvini in Emilia Romagna, che sta facendo una campagna porta a porta. Marco Cremonesi, pagina 12 del Corriere della Sera, ha preso una frase che ieri ha detto Salvini, l'affondo di Salvini vogliono eliminarmi per via giudiziaria. E poi un passaggio del leader leghista, pronostico molto severo sui 5 Stelle, qui il 5 Stelle prenderà il 5%, come andrà avanti dopo questo risultato? Analoga scelta, pagina 10 di Repubblica, qui è Carmelo Lopapa che è andato in Emilia Romagna alla sfida di Salvini, vogliono processarmi perché sanno che vinco. E infine la stampa che racconta la campagna americana del capitano, c'è il servizio sul campo e il commento di Massimiliano Panarari. E così abbiamo esaurito anche la parte su Salvini, che oggi diciamo monopolizza lo spazio delle opposizioni. E la maggioranza, per un verso c'è la cronaca del rinvio di tutti i dossier, rinviato il vertice sulla prescrizione, rinviato il vertice complessivo, insomma la strategia di Zingaretti condivisa da Di Maio è quella di scavallare l'Emilia Romagna, sperare per loro che salvino il fortino dell'Emilia e poi si vede. Ma l'altro pezzo forte della giornata è il disastro dentro i 5 stelle, con una quarantina di parlamentari sotto processetto interno per il tema degli scontrini e delle restituzioni. È curioso il modo in cui racconta le cose il fatto quotidiano, mette nel titolo restituzioni 47 a processo, e processo è tra virgolette. Il pezzo, come sempre informato sulle cose grilline di Luca De Carolis, abbastanza curioso è però l'occhiello. I probiviri aprono i procedimenti, ma Di Maio chiede clemenza. E qui siamo veramente alla caricatura dei processetti dell'epoca staliniana, che finivano sempre malissimi, però il leader era buono. Di Maio chiede clemenza, ci garantisce il fatto. E qui il grillino trinariciuto può dire, beh, sarà una procedura corretta e Di Maio è sereno e buonissimo nei confronti di tutti. C'è spazio anche per le sardine, che come abbiamo visto sono in prima pagina sul giornale, per questa loro strana attitudine anfibia, e che per un pesce non è esattamente la condizione più naturale, perché da un lato dicono non siamo un partito, però vanno a congresso. Il giornale fa un focus su questo, scanzonato e spiritoso, come sempre spiritosissimo, come sempre Osho, siamo anche su un'altra prima pagina, quella del tempo, che fa notare un'altra contraddizione. Non solo fanno il congresso, ma i giovani e i giovani, poi ci stanno anche un sacco di pensionati, congresso e pensionati, le sardine sono già diventate la CGL, e c'è poi la vignetta con Didascalia di Osho, con due signori anziani, appunto più adatti a una manifestazione CGL che a quella delle sardine, e la didascalia impagabile. Certo, alle feste dell'unità almeno due bruschette le davano, così il tempo risolve la questione. Invece non è per niente risolta e la raccomandazione che vi facciamo è doppia la questione ILVA. Che cosa è successo ieri? Una istanza giurisdizionale per fortuna ha detto di non spegnere l'autoforno 2, se fosse stato spento sarebbe stata, diciamola chiaramente, la fine di ILVA. Claudio Antonelli, in prima sulla verità, e poi il pezzo si distende a pagina 6, non solo racconta i fatti, ma li mette nel contesto più chiaro, giudici contro giudice, riacceso il forno ILVA, e sì, perché era stata un'altra istanza giurisdizionale a dire spegnete, e Antonelli spiega bene che nella ritirata della politica finisce tutto a tribunale, tribunale del riesame, PM che indaga, immaginatevi la condizione di un investitore che si trovi in mezzo a questa rissa giudiziaria. Giudici contro giudice, riacceso il forno ILVA. L'altro lato altrettanto importante della vicenda ILVA riguarda il passato, perché ieri l'erede della famiglia Riva, Fabio Riva, è stato assotto, ieri sono uscite le motivazioni della sua assoluzione dal reato di Bancarotta e ne scrive Nicola Porro sulla prima del giornale. Quindi provate a mettere insieme i pezzi di Antonelli e di Porro, con Porro che dice è stata espropriata una famiglia e ora l'uomo accusato di Bancarotta è stato assolto da un magistrato coraggioso. Antonelli che vi racconta le risse giudiziarie. Ecco, mettetevi nei panni di un investitore e diceva che quello è un paese dove si espropriano i proprietari, poi l'apertura o la chiusura, l'accensione o lo spegnimento è affidato a contese tra diverse istanze giudiziarie, meglio scappare via. Questo purtroppo si ricava dai bei pezzi, lo ripetiamo ancora, di Porro sulla prima del giornale e di Antonelli sulla prima e poi a pagina 6 della verità. Siamo in chiusura, segnalazioni conclusive, sì il nostro tempo è quasi esaurito. Allora, intanto la storia della Ministra Trenta, l'avevamo preso in un inciso dell'editoriale di Belpietro, poi c'è tutto un approfondimento sulla verità che è annunciato in prima e poi si distende nelle pagine interne, andiamola a vedere, eccolo qua, finalmente la Trenta torna a casa, addio all'appartamento di Stato. La verità è il giornale che segue con più attenzione questa vicenda incredibile, con il ritorno, annotano gli autori dell'articolo surreale della Trenta a casa sua, perché lei una casa ce l'ha a Roma, al quartiere Pigneto, ma aveva detto la Ministra e lì ci sono gli spacciatori, quindi gli spacciatori erano preoccupanti per lei, ma invece per gli altri abitanti del quartiere evidentemente dovevano andare benissimo, questa è la curiosa logica della Ministra Grilli. Va bene, possiamo concludere questa rassegna? Di Sanremo? No, perché ieri si è compiuto lo psicodramma finale, c'è stata una riunione alla RAI, chi si sono riuniti? L'amministratore delegato Salini, ineffabile in quota grillina, l'ineffabile curatore della manifestazione Amadeus, la direttora di RAI 1 De Santis e soprattutto l'agente Lucio Presta, che ormai è prossimo al Quirinale, nel senso che è agente di Amadeus, agente della Cebreal e agente di Matteo Renzi, i cui parlamentari di Italia Viva sono quelli che hanno più strillato a favore della Cebreal. È meglio di Mino Raiola, è fantastico, Presta è pronto per il Quirinale, gliel'abbiamo scritto ieri su Twitter e ha risposto anche in modo assai spiritoso e di questo gli va dato atto, potente ma almeno spiritoso, diversamente diciamo dai corazzieri che ha mobilitato, diciamo quelli di Italia Viva, Ansaldi, questi che fanno le interrogazioni in vigilanza morale. La Cebreal sarà a Sanremo, ci saranno dieci signore, due per sera, che affiancheranno Amadeus, viene presentata come una mediazione, quale mediazione? La Cebreal fa esattamente quello che desiderava, cioè un monologo politico sulla violenza contro le donne, qualcuno parlamentare di Forza Italia Malanna ha fatto notare che ha una foto con Weinstein che non è esattamente il viatico migliore per parlare di violenza contro le donne, qualcun altro dice che dovrebbe raccontare come vivono le donne dei paesi che piacciono a lei, Palestina, eccetera. Chi scrive le cose più sagge è Francesco Borgonovo, che sta seguendo i dossier da giorni. Il caso Rula finisce in farsa, via la virgolette censura leghista che la lega non ha chiesto, non c'è nessuna censura e ancora Riccardo Torrescura sulla verità, nella pagina accanto, sono due paginoni dedicati dalla verità al tema che dà conto anche della protesta della comunità ebraica che non ha potuto non far notare tutta una serie di dichiarazioni sgradevolissime e divisive della Jebreal, ma quale simbolo dell'inclusione dalla Jebreal insulti a Israele e all'Italia? Restiamo della nostra opinione, libertà di parola per tutti, ma la Jebreal è adatta ad un talk show politico in cui le sue legittime opinioni possano confrontarsi con altre. cosa c'entra col Festival di Sanremo? E invece i soliti compagni progressisti hanno difeso la loro nuova beniamina e in più hanno trovato un nuovo nemico, Rita Pavone, che può piacere può non piacere, ma ha 60 anni di carriera, ha venduto più dischi lei che tutti gli altri concorrenti del Festival di Sanremo messi insieme, ma è lei la nemica, ieri i social scatenati e oggi incredibilmente c'è Francesco Merlo su Repubblica che è innamorato delle sardine, ricorderete l'intervista lirica al capo sardina Mattia Sattori, oggi invece intervista su Repubblica Rita Pavone e lo fa col piglio del pubblico ministero che inchioda Rita Pavone alle sue responsabilità e la sventurata cede e ammette di aver fatto un tweet sbagliato su Greta Thunberg. Fantastico Merlo che riesce a essere appunto lirico con le sardine e feroce e inflessibile con Rita Pavone. Queste sono le caratteristiche di un certo giornalismo ufficiale italiano. Va bene, il nostro tempo è finito. Noi ci risentiamo questa sera alle 19, chiacchierata col professor Gervasoni, che ritroveremo eccezionalmente domani mattina nella rassegna stampa, eccezionalmente perché ci sarà un'inversione, giovedì sentiremo invece del tradizionale venerdì Marco Gervasoni, venerdì sentiremo invece del tradizionale giovedì Francesco Galietti. Grazie a entrambi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, grazie ancora di più, se però ascoltate questa rassegna in diretta o indifferita passerete in edicola apprendere la verità e panorama. Colgo anche l'occasione per dire che è sempre aperta l'edicola online della verità, laverita.info, dove se non vi va di passare in edicola trovate tutte le offerte per abbonarvi online, per chi come me dorme poco, come dire, tutti gli abbonamenti online consentono di ricevere sul vostro device, sul vostro tablet, sul cellulare o sul pc dove preferite, l'edizione della verità già alle 2 di notte, quindi essere i primi a sfogliare e leggere ogni singola pagina della verità. Buona giornata a tutti!